Mi chiamo Jennifer Avery e sono una millennial. Fino a poco tempo fa non sapevo neanche che cosa volesse dire. È iniziato tutto 16 anni fa, quando mia madre lavorava a un progetto di ingegneria genetica finanziato da Magnus Atlas, un pesce cane dell'alta finanza. Ah sì, lui è mio padre, ma non l'ho mai conosciuto. Ho anche un fratello, gemello, anche lui sapeva dei millennials. È strano quando scopri cose su di te che così tanta gente sapeva e tu no. Comunque, io non sono da sola. I millennials sono dieci. Plagio, il persuasore che ha deciso di vivere all'Ikea. Mito, la nostra cosplayer con i suoi cloni. Jikan, l'inafferrabile viaggiatore nel tempo. E Roulette, che può controllare la fortuna e soprattutto la sfortuna. Arte, che evoca le figure dai dipinti. E Chuton, tanto forte quanto odiosa. Miro, lui è anche Penny. Una lunga storia. Lui vive con Ludo, che ha un buco nero nello stomaco e può masticare di tutto. Ah, e ovviamente c'è Bit, mio fratello, che si connetta alla rete e alla tecnologia con il pensiero. E sì, poi ci sono io, Tesla, con la potenza elettrica mondiale nelle dita. Cosa sono i millennials? È quello che stiamo cercando di scoprire. Assurdo, eh? Non venite a dirlo a me. A presto! Grazie a tutti.